Olivicoltori e frantoiani delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e benvenuti al 42esimo notiziario olivicolo del 18 ottobre 2024. Fase fenologica in variatura media. Al 75% per le varietà precoci significa che nelle olive di questa varietà il 70% del frutto ha già cambiato colore, passando dalla tonalità verde a colori più scuri, sia nella buccia che parzialmente nella polpa. Questo indica che queste varietà sono molto vicine alla maturazione completa. Al 60% per le varietà tardive indica che il cambiamento di colore è avvenuto solo in una parte più limitata delle olive. Queste varietà tardive sono ancora in una fase meno avanzata di maturazione, con la buccia che in parte rimane verde e la polpa che potrebbe essere ancora prevalentemente chiara. Malattie e parassiti. Mosca dell'olivo. Le condizioni climatiche favorevoli mantengono alta la presenza della mosca dell'olivo, con continue ovodeposizioni in tutte le aree olivicole. Nelle aziende con infestazioni superiori al 5-6% si consiglia di procedere alla raccolta, dove invece è prevista per fine mese o ai primi di novembre è ancora possibile effettuare trattamenti fitosanitari adulticidi, utilizzando Spinosad, esempio Spintorfly, con 7 giorni di tempo di carenza, massimo 8 interventi. Ciantranili prole. Exirel, 7 giorni di carenza, massimo 3 interventi. Olio essenziale di arancio dolce. Circa 7 giorni di carenza. Boveria Bassiana. Piretro, circa un giorno di carenza. Si ricorda che le aziende che utilizzano Esche adulticide, Spinosad e Exirel Bait devono ripetere il trattamento una volta che l'efficacia dello stesso termina, mediamente 10-12 giorni, o se il prodotto è di lavato da piogge. Margaronia o piralide dell'olivo. Si sono riscontrati ancora danni su rami e olive. Si consiglia di separare le olive attaccate dall'epidotero durante la raccolta, poiché queste possono produrre oli con acidità e perossidi elevati. Disinfezione post-raccolta. Dopo la raccolta è consigliato un trattamento con prodotti rameici, eventualmente uniti a distillato di legno e prodotti contenenti zinco, particolarmente nelle zone dove le condizioni climatiche favoriscono lo sviluppo dei patogeni fungini, come l'occhio di pavone. Questo intervento aiuta anche a prevenire infezioni di rogna dell'olivo. Note sulla raccolta. Si raccomanda di rispettare i tempi di carenza dei trattamenti larvicidi, adulticidi o fungini eseguiti prima della raccolta. Per ottenere oli di qualità non vanno raccolte le olive cadute a terra per danni fitosanitari e quelle danneggiate da infezioni di mosca e magaronia. Le olive in attesa della frangitura vanno conservate in cassette o cassoni forati, mantenuti in ambienti freschi e ben areati. La frangitura deve essere eseguita entro 36 ore dalla raccolta. Per gli iscritti AIPO si comunica che nell'area riservata del sito è presente una lettura interessante sulle cause della limitata resa. Un saluto da AIPO P, dall'Associazione Olivicoltori e Frantoiani delle province di Rimini, Forlì e Cesena e un arrivederci al prossimo notiziario. Grazie. 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 Grazie.